salve a tutti ragazzi oggi sono qua con la regia ciao a tutti con la regia questa volta che si fa vedere e vi portiamo diciamo la recensione di De Gallus l'esecuzione l'ho visto prende tempo fa al cinema mi aveva fatto schifo l'ho visto con degli amici ho avuto questa fortuna di bella al cinema con tanti deficienti facevano i cretini dentro la sala chi urlava inutilmente vabbè lo sapete i film horror ormai ci fa questa gente qua fare i deficienti dentro la sala per niente io la regia non aveva visto questo film io lo volevo recensire volevo un po' rinfrescarmi la memoria quindi ero contenta di vederlo per la prima volta lui non tanto però l'ho fatto per me un grande atto di coraggio c'è stato perché anche c'è l'atto 2 anche di De Gallus ve lo porteremo lo dobbiamo vedere speriamo che sarà meglio di questa merda per niente io l'ho cercato non trovandolo l'ho trovato su Rakuten al solito e l'abbiamo noleggiato lì a 4 euro spendiamo ciolti niente la trama è questa inizia un ente il film che è ambientato nel 1983 vediamo che c'è questa ripresa un po' amatoriale e prende c'è tipo un teatro vediamo questi ragazzi questo qui che dovrebbero fargli l'esecuzione e impiccarlo prende succede il patatrack e prende finisce male il ragazzo muore muore davvero impiccato muore veramente impiccato e stacco e vediamo niente ai giorni nostri nel 2014 dovrebbe essere una ventina d'anni dopo vediamo questo gruppo di nuovo che dovrebbero fare questi altri ragazzi dovrebbero fare diciamo questa la stessa diciamo sceneggiatura di niente che è stata fatta e non mandare di questa l'esecuzione dovrebbero evitarla questa cosa invece no l'hanno riprodotta di nuovo e quindi ci saranno delle belle continuo continuo belle merdate ci saranno prende vediamo questo simpaticone chiamiamolo simpaticone perché i nomi non me li ricordo che prende fidanzato con questa bionda questo ragazzo è tutto il tempo con la videocamera a fare il coglione per la per la scuola praticamente quindi vediamo diciamo il film girato da lui vabbè si molto a capire così si ed è molto molto salve a tutti ragazzi oggi sono qua con la regia ciao a tutti con la regia questa volta che si fa vedere e vi portiamo diciamo la recensione di The Gallus l'esecuzione l'ho visto prende tempo fa al cinema mi aveva fatto schifo l'ho visto con degli amici ho avuto questa fortuna di verlo al cinema con tanti deficienti facevano i cretini dentro la sala chi urlava inutilmente vabbè lo sapete i film horror ormai ci fa questa gente qua a fare i deficienti dentro la sala per niente io la regia non l'aveva visto questo film io lo volevo recensire volevo un po rinfrescarmi la memoria quindi ero contenta di vederlo per la prima volta lui non tanto però ho fatto per me un grande atto di coraggio c'è stato perché anche c'è l'atto 2 anche di The Gallus ve lo porteremo lo dobbiamo vedere speriamo che sarà meglio di questa merda per niente io l'ho cercato non trovandolo l'ho trovato su Rakuten al solito e l'abbiamo noleggiato lì a 4 euro spendiamo ciolti niente la la trama è questa inizia un ente il film che è ambientato nel 1983 vediamo che c'è questa ripresa un po amatoriale e prende c'è tipo un teatro vediamo questi ragazzi questo qui che dovrebbero fargli l'esecuzione e impiccarlo prende succede il patatrack e prende finisce male il ragazzo muore muore davvero impiccato muore veramente impiccato e stacco e vediamo mentre ai giorni nostri insomma 2014 dovrebbe essere quindi con una ventina d'anni dopo vediamo questo gruppo di nuovo che dovrebbero fare questi altri ragazzi dovrebbero fare diciamo questa la stessa diciamo sceneggiatura di niente che è stata fatta e non andare di questa l'esecuzione potevano evitarla questa cosa invece no l'hanno riprodotta di nuovo e quindi ci saranno delle belle continuo continuo belle merdate ci saranno prende vediamo questo simpaticone chiamiamolo simpaticone perché i nomi non me li ricordo che prende fidanzato con questa bionda questo ragazzo è tutto il tempo con la videocamera a fare il coglione per la per la scuola praticamente quindi vediamo diciamo il film girato da lui vabbè si molto materiale ci fa capire così si per niente vediamo che stanno rifacendo sta cosa lui va in gira a prendere un po il culo diciamo un po a tutti chi lavora dietro le quinte vediamo prendi uno dei protagonisti sto ragazzo dovrebbe fare tipo il principe quello che dovrebbe essere impiccato il belloccio di turno che fa il protagonista protagonista è anche il protagonista in questa in questa sceneggiatura di teatro prentesi insieme questa tra ragazze una delle quattro protagonisti ci sono in questo film la bionda il deficiente con la telecamera il l'attore mente che ha preso l'opposto di quello che è morto impiccato è la principessina che non ci viene spiegato un cazzo di sta trama del che del teatro scusatemi pre niente lui è nana pippa il protagonista a recita fa 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 schifo completamente non si ricorda le battute una merda venite lui è lì soltanto perché gli piace a quella che sono ci fosse lei lui buona ugo non ci provo con il teatro perché ha abbandonato pure il il baseball il football non so che cazzo abbandonato si uno dei loro sport perde di lassi a teatro era meglio che rimanevi a fare sport lui ci prova comunque eh sì per la topa lui ci prova certo niente vediamo niente che mentre stanno sistemando le cose il caro tizio con la videocamera si accorge che prende c'è una porta rotta che tipo la classica porta di uscita di emergenza no e dicono che è rotta da tempo gli dice una di queste ragazze che passa di passaggio così lui dice tizia la chiamo a nome pure sbagliato ma questa porta c'è ma è rotta da tanto tempo ma non la sistemiamo lasciamola così perché può entrarci in barbone la gendaia ma che cazzo è una scuola comunale non si sa se è privata ma perché cazzo non la riparate sta porta ma non fa niente ma che ci fa e lui prende va dal protonista e prende gli ha un'idea fantastica per non fargli fare teatro perché è una merda e ha paura il prende gli dice vedi che c'è questa porta aperta potresti saltare fare teatro distruggiamo tutti i set così non lo fai più eh e poi anche una scusa diciamo per provarci con la principessina e lei sarà tanto triste tanto desolata e quindi non lo so andrà da te sicuramente a consolarsi allora lui vedendo un po questa questa prospettiva questa occasione perché non era molto d'accordo perché aveva paura che poi si all'inizio non era d'accordo e poi dopo ha cambiato idea dopo ha cambiato idea e ha seguito il pazzo simpaticone in questa avventura insieme alla fidanzata del simpaticone ringoglionita pure lei lei dice perché perché ti piace perché ti piace perché ma che te ne è forte lei ripete molte volte questa cosa mi sembra è bello di sì ripete molte volte ma cosa di bello cosa di bello cosa di bello ma perché a te che ti importa cosa di bello ce l'hai fidanzata che ti importa con per i coglioni quindi vediamo l'inter di sera loro si recano alla scuola con la porta rotta e entrano con facilità facendo anche le gaffe con una cretina bionda che scivola per le scale e ride con una coglione non ci sono videocamere poi in questa cazzo di scuola puttana eva siamo nel 2013 2015 mi ricordo con un trozzo ambientato in cistone telecamere se lui grandissimo si porta la videocamera per riprendere un atto vandalico che si vorrebbe che se prendono sto video che andate tutti in galera ma non si riprendono sti atti vandalici quando ripensa che torna a casa la videocamera sarà con lui poi se qualcuno la scopre e poi la prende in culo già anche qua iniziamo con le stronzate perché devi riprendere non c'ha spiegazione non è come altri film tipo cannibale o caos c'era un motivo perché c'era la telecamera o prendiamo rec perché c'era un motivo perché c'era la telecamera tanti film che c'era la videocamera c'è un cazzo di motivo qua non te lo spiega un coglione con la videocamera prende vedo e cercano di entrano facilmente dicevo e vanno a fare i coglioni sopra il palco a rompere un po la roba cercano di sabotare il palco scenico e ci riescono anche attenzione ci riescono un pochettino soprattutto cosa fa il coglione con la telecamera togli il cappio e lo termine alla fine non ci vuole un cazzo a rimetterlo che danni sono questi butta una pedata al cosa un cestino lei che cazzo è un vaso ma secondo te che è un danno che un vaso di plastica no perché poi giorno dopo capito tornano le persone diciamo che al lavoro e che a scuola rimangono scioccate ma dovrebbe dare fuoco a tutto da questo atto vandalico ma ma fanguro praticamente vengono scoperti dalla principessina quella che è super no vorrebbe fare lei teatro e che ci tiene che fa la parte no della principessa attenzione questa principessina che ci fa la cazzo ci fai poi lì cos'è ti stai andando a prendere un bitterino che minchia ci facevi la vicino lei dice ho visto l'automacchina che state facendo lui si caga un po in mano la bionda subito a sistemare tutto insomma ci ha scoperti sono due o la principessina abita di fronte alla scuola oppure lei faceva delle passeggiatine notturne si è trovata davanti alla scuola e ha visto la macchina del protagonista di questo amico suo che deve anche lei sono dalla portarotta tutti sono della portarotta vabbè anche lei sono dovuto facciamo dei rave dentro la scuola ormai facciamo le festicciole sto punto quindi in frattempo che il nostro protagonista innamorato parla con la sua amata e gli dice palle perché mi può dire guarda io sono andata a sabotare in palcoscenico perché sono un coglione non volevo fare teatro ecco ha detto no io stavo provando perché sono troppo nervoso penso di non riuscirci allora sono andata a provare lei ci crede all'inizio se la beve e poi dopo succede il patatrack quanti patatrack ci sono? un sacco di patatrack primo patatrack che vanno a vedere sul palcoscenico e vedono tutto a posto soprattutto il cappio rimesso da solo a posto chissà come chissà da chi ma che poi attenzione mi sono dimenticato una cosa a dirvi sto film è stato pubblicizzato che il film che ha terrorizzato gli stati uniti minchia io quando ho visto i tre ho detto sicuramente sarà una merda si va andate a vedere i trailer c'era questa qua non era gente pagata si vedeva praticamente tipo un cinema americano questi qua che vedevano queste scene del film con un popcorn puttanate perché nessuno si spaventa con sto film veramente io mi sono spaventata tanto quando è finita la coca cola ecco e io sono andato a riprendere quindi mettere pausa su quello mi sono spaventata ci sono i jumpscarber che non servono a un cazzo usando per farvi saltare in aria sì diciamo quello non è paura ogni tanto è per farti smuovere un po' sì per svegliarvi siccome stai prendendo sonno i jumpscarber servono appunto per riprenderti un attimo ecco e ti risvegli loro vedendo sta cosa cercano di uscire si cominciano a spaventare ovviamente perché è tutto strano non chi mette a posto e cercano ecco di trovare una soluzione e scappare quindi che cosa si fa prima di tutto si ritorna indietro dalla porta rotta dalla porta è sistemata è sistemata magicamente se è sistemata la porta non si apre e prendi loro non è che prendono dice subito prendiamo il telefono chiamo mia mamma chiamo papà chiamo la polizia non chiamano nessuno cercano soltanto altre strade per andare via da questo posto in frattempo che cercano delle stanze delle porte nascoste che all'interno c'è un televisore con un videoregistratore che gira il video del 93 del 93 che è quello che è morto in piccato lui prende niente cacato in mano vede all'interno del video qualcuno che conosce il protagonista e corre verso le vetrine dei trofei e tutto no? e vede quella foto quella foto del 93 del cast e riconosce il padre il padre quindi veniamo a sapere appunto che il padre doveva essere l'impiccato invece si è dato malato ed è stato sostituito da questo ragazzo da questo Charlie da questo biondino quindi lui si sente in colpa per il padre e dice se non fosse stato per mio padre questo Charlie non sarebbe morto sarebbe morto tuo padre vedete come sono le cose è vero praticamente l'entità un po' si mette un po' a farsi vedere un po' rompe un po' i coglioni un vedo non vedo un po' viene sbatte un po' qualche sportellino qualche porta che sbatte vabbè i classici fantasmi che sbattono le cose e praticamente nella loro in frattempo ricerca loro si dividono non si sa neanche perché cazzo vi dividete testi di cazzo non si sa che non si deve mai dividere loro si dividono che loro si sono da una parte che loro si sono da un'altra però la cosa strana è che quando si dividono ognuno ha una videocamera di che è iniziato col film con una videocamera perché vediamo all'inizio che il cretino e il buffone ha la videocamera con gli infrarossi quindi ovviamente vi sto dicendo questo per farvi capire il fatto della videocamera più in là nel film vediamo che i ragazzi e quegli altri ragazzi che rimangono hanno la videocamera però poi vedendo appunto a parte il buffone che è rimasto da solo vediamo che ha gli infrarossi quindi ci sono due videocamere non una e quindi è un po' strana questa cosa non dovranno far vedere allora due videocamere non una perché alla fine si vede che o se la passano tra di loro non lo so prendi la tua lanciando e vediamo la scena del buffone che viene messo sotto scacco dal fantasma dal fantasma eh sì perché questo perché vogliamo dirlo perché lui lo chiama lo insulta lo insulta e lo minaccia lo minaccia non mai minacciare gli spiriti cosa sai fare cosa non sai fare gli amici suoi di che sono là dentro vengono una scusa o un'altra vengono buttati fuori non lo so ragazzi ci sono cose che non comprendo neanche io cioè il momento vede una cosa poi il momento vede un'altra poi il gelato pure di merda io gli sconsiglio di vederlo a stomaco pieno perché è vomitevole a vedere si chi ha questi problemi non lo so di vista o non lo so di stomaco non lo so come possiamo dirlo alla fine si alla fine se vi dà fastidio pochi non ve lo consiglio proprio cioè ve lo consiglio proprio anche se state bene non lo vedete proprio sta merda praticamente vediamo che il tizio si fa giustamente ammazzare come un deficiente tutto riprende tutto riprende tutto con la videocamera quando muori è giusto che ti fai riprendere però intanto quegli altri ragazzi che si vedevano avevano una videocamera anche loro quindi è strano questa cosa però dopo quando appunto muore il ragazzo viene presa la videocamera dal protagonista quindi qua meno dire ah ecco la videocamera perché l'ha presa il protagonista lo prende però la batteria è scarica il protagonista ha una batteria di riserva non sappiamo come perché quando l'ha presa non sappiamo non c'è da sapere neanche questo non c'è da sapere un cazzo il film manca di musica non c'ha musica fotografia non esiste perché usano la fotografia e la videocamera e la usano secondo me come scusa per saltare questa cosa perché tanti film che vengono girati così a film documentario se ne approfittano perché si salta un grande lavoro di fotografia di musica perché in questi film qua si salta tutto invece i film fatti come si deve che sono pochi ho fatto delle riprese in videocamera lo so che ripeto la stessa cosa cannibale o caust aveva una sua cazzo di fotografia con tutto ciò che era un finto documentario prende loro se ti spiegano che loro poi lo andavano a montare gli mettevano la fotografia cioè era veramente una genialata e quello è stato il vero primo film con le cazzo di videocamere cannibale o caust io ve lo consiglio soltanto però se siete diciamo deboli di stomaco o non volete vedere diciamo violenze sugli animali evitatelo io per esempio non l'ho visto sono sincera lo ammetto perché non sono debole di stomaco però non amo vedere uccisioni di animali non riesco a sopportarlo quindi lo evitate non l'ho visto anche Rec stesso ha una buona fotografia con tutto ciò che è un film documentario quindi ci sono stati che questi hanno voluto risparmiare i film e costavano i vari centomila dollari forse l'ha voluto far girare il buffone hanno detto ma che poi è stato girato diciamo tra gli attori ho letto che è stato girato tra gli attori non c'è proprio il regista non è proprio lui preso a girare ce l'ha fatto girare tra gli attori stessi ha preso solo un po' e come tolla la videocamera lei dico tieni gira cazzo e facciamo il film non ha senso però ha incassato un botto c'è l'atto 2 che poi vedremo in questi giorni ve la portiamo alla recensione ce lo dovrò beccare con i sottotitoli perché non è stato doppio dell'italiano forse dice già abbiamo fatto abbastanza danni a portare i primi in italiano non portiamoli due praticamente vediamo la scena della bionda anche lei da sola questa diciamo una scatenata tipo da cinema sembra una scatenata in cinema non sembra una cosa detta e altra sembra un'altra parte completamente con tutte ste luci rosse molto fighe vediamo lei tipo così pure lei c'è una videocamera attenzione pure lei c'è la per terra che si riprende lei stessa si riprende e che io che mi cago in mano so che c'è un fantasma io quando dico ma vaffanculo lancio tutte cose prendo la torce che c'è nella videocamera e tu porto con quello che mi metto a fare lo stronzo in giro con la videocamera che c'è un fantasma dietro il culo ma che cazzo di senso ha portarsi la videocamera porco giuda se c'è il fantasma dietro il culo e intanto uno si sponsorizza sono sopra su sua fantasma che poi un po' si fa vedere questo diciamo esecutore è diventato lui boia si si l'esecuzione la fa lui alla fine fa capire perché ha il ha stesso il sacco di tela del boia del 93 fatto proprio dal ragazzo quello che faceva il boia ce l'aveva lui in testa vogliamo arrivare alla parte spoiler per non dire tutto il film vediamo la parte spoiler io ragazzi se non volete vederlo volete risparmiare questa merda vedetevi la parte spoiler veramente vabbè che dura poco il film sui 70 minuti circa quindi non dura tanto però spammiatelo vedete qualcosa di meglio non rompetevi i coglioni cioè se ne siamo rotti noi si ma adesso dici la parte spoiler penso che adesso si è ragione a meno chi vuole sapere è ragione spoiler praticamente rimangono la principessina e il ragazzo Vivi i tuoi protagonisti cercano diciamo di trovare sempre una via di uscita non so perché riescono a chiamare la polizia però non lo fanno vedere che lui chiama la polizia no non chiama la polizia chi chiama? non chiama la polizia direttamente fa scattare l'allarme ah fa scattare esattamente fa scattare l'allarme secondo me si è addormentato in quel piccolo pezzettino scusatemi ma un'altra cosa mi chiedo se tu hai scappato da quel posto che io lo so cosa avrei fatto davo fuoco a tutto tutta la scuola sarebbe venuto chiunque penso che sarebbe venuto qualcuno se davi fuoco alla scuola invece loro non ci pensano a fare questa cosa e se il fantasma faceva spegnere le fiamme no però potevano provarci non vedi che hanno fatto scattare l'allarme e dovevano venire polizia pompieri tutti dovevano venire infatti loro erano sicuri di questo invece chi è venuto nessuno nessuno quindi alla fine anche se davano le fiamme alla scuola penso che non ci riuscivano la porta si apre magicamente ma che poi stranamente il protagonista esce essendo a lei che piange si perché lei è rimasta indietro lui scappa non pensa poi lui che fa fa vedere che c'ha un attimo di tentennamento dice che faccio scappo torno a casa o torno indietro e la salvo alla fine lui torna indietro perché vuole vuole l'amore l'amore fa questo effetto praticamente lui torna indietro lei vediamo che dice oh ma soffocato lei sta sul palco attenzione che sta sul palco con una luce bella puntata su di lei che ci fa capire che il nostro pandasmino vuole che venne fatto questa cosa si deve sacrificare quindi il finale si vuole che alla fine vogliono che devono interpretare questi personaggi alla fine dice dovete finire l'atto quindi lui comincia a recitare si mette il cappio e lei lo chiama con il nome di suo padre dice non farlo e lei dice ma perché mi chiamo così smettela che minchia dici quella la chiamo tutti i temi così vediamo sul palco il pandasmino che si materializza che apre diciamo questa botolina e il ragazzo viene impiccato la ragazza tranquilla lei finita di ci metter di piangere tranquillissima vediamo l'ombra del fantasma e dà la mano a lei e si fanno l'inchino e gli capiamo qualcosa e qualcuno dall'altra parte che ha appagato tra le sedie del pubblico che ha appagato e vediamo che è la signora che si vedeva spesso all'inizio diciamo nelle tribune quando facevano le prove nel teatro stacco e vediamo questa polizia che entra a casa proprio di questa ragazza del fantasma e vediamo un po' che la madre è quella lì di lei e il padre era proprio il fantasma con una scena inquietante vediamo sua mamma che gli pettina i capelli in trans mentre guardano il video del padre che muore che bello proprio andare a letto vedere il papà che muore quindi giustamente già lo perdiamo alla fine la mamma insieme alla figlia si è voluta vendicare ma vendicare su che cosa soprattutto del protagonista che sarebbe il figlio scopriamo niente che alla fine loro ce l'avano colore però io mi chiedo come loro sapevano che si presentavano i ragazzi per distruggere il palco sì questo c'è stato questo buco non è che è stata la ragazza a dire oh cazzo distruggiamo il palco e allora lì ci stavano che era lei stessa non la figlia del fantasma a portarli lì invece la loro decisione è stata andare lì a distruggere tutto cioè non ha senso non hanno preso appuntamento con la principessina i poliziotti vengono impiccati e il film finisce così io alla fine non uccidono nessuno loro hanno avuto la loro vendetta una vendetta inutile perché il cazzo ne sapeva quello lì che moriva non ha senso questo sì infatti non si sapeva avrebbe potuto morire il padre del protagonista però non si sa non si sa se è veramente stato qualcosa fatto apposta premeditato o è stato casuale non si sa comunque questo abbiamo capito che la protagonista è la figlia del del povero Charlie questo questo fantasmino e la mamma era come abbiamo capito la protagonista che piangeva sul palco del 93 che le è venuto ecco questo shock sì perché non è rimasto incinta di lui di lui o andrea le ragazze però questa cosa giustamente non si sapeva all'inizio non siamo venuti a sapere l'abbiamo scoperta appunto nel finale io vi dico l'intatto spero non siamo stati noiosi noiosi anche abbiamo prolungato molto ma c'era tanto da dire su sta zazzeria noi in questi giorni vedremo l'atto 2 ve lo porteremo sempre noi due ve lo portiamo una recensione spero vi sia piaciuto il video se vi va iscrivetevi e mettete mi piace alla prossima ragazzi